Tempo stabile in prospettiva sulla nostra regione per questo fine settimana. L'anticiclone dell'Azori, infatti, estendendosi sul Mediterraneo, garantirà stabilità atmosferica. Soltanto in quota sulle Alpi ci saranno a tratti delle correnti un po' più umide. Avremo pertanto delle belle giornate, sia sabato che domenica, con cielo in prevalenza sereno su pianura e costa. Qualche nuvola in più è attesa in montagna nel pomeriggio di entrambe le giornate, con la possibilità di qualche locale pioggia proprio sulle zone più interne a ridosso del confine verso il Cadore. Per quanto riguarda le temperature andremo crescendo, complice anche un po' di borino che sarà presente domenica mattina sulla costa. Avremo temperature piuttosto alte, con massime sabato intorno ai 33 gradi sulla pianura e intorno ai 30 gradi sulla costa. Qualche grado in più intorno ai 34 domenica. La presenza del borino renderà però l'aria un po' più secca nella giornata di domenica. Tempo affoso per lunedì, ancora tempo stabile, con cielo sereno poco nuvoloso e decisamente più affoso. Affoso anche martedì con l'arrivo di un fronte in serata che porterà dei temporali a partire dalla zona montana, probabilmente poi in estensione su gran parte del territorio, ma si tratterà della notte fra martedì e mercoledì. Buon fine settimana a tutti!